La liturgia ci propone in questo mese il Vangelo secondo Marco ancora e siamo al capitolo 9 nei versetti da 38 a 48 con alcuni versetti sospesi per non confondere o forse per non distrarre il ascolto domenicale che deve portare frutto. Se il brano di domenica scorsa mostrava come i discepoli si divedevano tra loro per capire chi potesse essere il più grande, adesso la divisione avviene nel nome del proprio noi, nel gruppo. Ad un certo punto i discepoli confessano una cosa che hanno fatto con orgoglio. Abbiamo visto uno che nel tuo nome scacciava demoni ma che non segue noi, glielo abbiamo impedito. È sempre importante confrontarsi in profondità con il Vangelo ed è importante spiegare, portare agli altri il Vangelo ma con verità, senza troppi tradimenti. E ecco alla luce di questo episodio evangelico la Chiesa scopre che non è fatta da chi segue noi ma da chi ascolta il Vangelo e segue Gesù, il Signore. E il missionario poi lo sa perché ne ha fatto esperienza tante volte. Ognuno diventa persona nel rapporto con gli altri, diventa cristiano in rapporto personale con Cristo e con il Vangelo. Probabilmente appare qui per la prima volta l'identità forte della comunità, noi e poi ci sono gli altri e Gesù vuole educare in questo. La Chiesa non ha il centro se stessa, bensì l'annuncio dell'amore di Dio e il Vangelo. La Chiesa deve poi cercare e spendersi per l'unità e per essere una rimane dunque libera e deve essere una comunità liberante e cattolica, cioè aperta, universale, capace di accogliere tutti. Non impeditelo, risponde Gesù a quella affermazione piena di orgoglio. Insegna così Gesù. Non c'è nessuno che farà prodigi nel mio nome e subito dopo può parlare male di me. Qui non si parla di tolleranza ma c'è l'annuncio della libertà dei figli di Dio, che conosce il bene e chi lo compie. Vede negli altri dei fratelli e così dobbiamo imparare anche noi a guardare con occhi nuovi gli altri. Occorre, come fa peraltro il vero missionario, trovare nel nome di Gesù la fonte, il fine e il mezzo di ogni azione. Gesù poi insegna al termine di questa pagina evangelica che è necessario tagliare tutto ciò che è d'inciampo agli altri e a me per seguire Gesù, per andare dietro a Gesù come discepolo. Si tratta di evitare tutto ciò che è un ostacolo, uno scandalo. Occorre davvero tagliare qualche cosa, la mano, i piedi o cavare l'occhio? Facciamo attenzione. Si tratta di togliere la vanità nel mio sguardo, si tratta di tagliare la mano piena di avidità, si tratta di evitare quei cammini di ingiustizia che tendono a schiacciare gli altri. Questa operazione la dobbiamo fare ed è possibile. Allora si tratta di togliere ciò che non è una lieta notizia e non è un progredire dell'umano, si tratta di avanzare nella misericordia e nell'attenzione agli altri. Più che una limitazione, il Vangelo Gesù ci chiede un'apertura di cuore a tutti.